Io ogni tanto mi viene un po' da sorridere in questi ultimi anni perché vedo che questo morbo populista è entrato, come è entrato dappertutto, ma è entrato pervicacemente anche nelle pieghe del nostro lavoro per cui leggo, ma questo lo dico diciamo in maniera divertita e l'ho detto spesso leggo improvvisamente tre quarti delle autobiografie dei miei colleghi tutti che hanno fatto, io ho fatto il meccanico perché è quello, perché ho fatto come se adesso bisognasse diciamo compiacere il popolo e farsi sentire più vicini al popolo esibendo quasi il domicilio, cioè io abito là, tu abiti là c'è quell'attore che dice non dire che abiti in centro perché se no non lavori con quel regista io pensavo fosse uno... Si costruiscono delle finte biografie è una cosa diciamo tragicomica, come se qualcuno avesse mai chiesto a Orson Welles se abitava diciamo in centro, in periferia, se qualcuno si fosse mai interessato della famiglia di Volontè fortunatamente in questi ultimi anni ed è qui presente c'è un autore che ha fatto un lavoro straordinario sulla vita di Gian Maria Volontè che è una vita ricchissima, controversa, piena di tante ma ecco, lavorare a fondo sulla biografia di un attore non significa fermarsi alla superficie se no si cade in grossi equivoci credo che ci sono persone che esibiscono il popolo e che hanno capito molto bene come ci si siede a tavola molto meglio di me come si tengono le posate per farsi ammettere nei palazzi che contano molto meglio di me e questo diciamo è un segno dei tempi